Baudo deve andare a casa dopo il flop di Sanremo? Ma devono andare a casa un po' tutti, perché ci sia Baudo che pensa ancora di fare il prossimo festival di Sanremo, ma cosa facciamo? Ma mettiamo i giovani, ma basta, la casta sono questa qua, la casta sono quelli di Baudo che pensa di fare il festival di Sanremo, quell'altro Merigliani, come si chiama quello che fa? Cioè voglio dire, ma andate a casa, ma lasciamo i posti ai giovani.